Il laboratorio affronta negli ultimi anni il tema del Building Information Modeling sia all'interno dei percorsi di formazione post laurea oltre che curricolari e all'interno dei percorsi di ricerca. Il tema è di centrale importanza non solo per adeguare i percorsi formativi degli studenti ma soprattutto per collaborare con professionisti, imprese, le pubbliche amministrazioni all'interno di tavoli di lavoro che producano risultati della ricerca efficaci così come il mercato dell'edilizia e dell'industria si aspetta. Questo tema rappresenta una grossa opportunità per affrontare l'industrializzazione della nostra filiera in un periodo di grossa difficoltà ma che pone anche nuove sfide e nuovi orizzonti e quindi un nuovo potenziale mercato aperto a tutti i livelli, tanto le piccole e medie imprese, i piccoli studi professionali così come le grandi reti.